Simona Morbelli, top runner, team Salomon, io però preferirei che si definisse da sola perché ha un curriculum lunghissimo, è difficile anche definirlo. E beh, buongiorno a tutti, ciao, dunque, sì, Simona Morbelli, team Salomon Italia, Salomon International e, che dire, trailer, ultra runner, ultra trailer. Il tuo rapporto con queste terre d'orcia, la Toscana, eccetera, vieni spesso, cosa ne pensi? Fai finita che non ci ascolti nessuno, quindi puoi parlare liberamente. Sono qui perché la Val d'Orcia è uno dei posti più belli al mondo e normalmente io una gara la faccio una, massimo due volte. La Tuscani l'ho fatta tre volte, la Brunello Crossing l'ho corsa come prima edizione quest'anno e non è detto che terminino così le mie avventure sia con la Tuscani che con la Brunello. I percorsi sono fantastici, io amo molto correre, nonostante sia una trailer di montagna, amo molto correre. Le mie gare sono sia di montagna e sia di corsa pura, come la prossima che farò a Madrid, la prossima settimana, 80 km tutti veloci. E qui è fantastico perché sono tutte strade bianche, molto molto difficili da correre, 100 km non è facile, non è per tutti. E io consiglio veramente ai trailer di montagna di venire in posti come questi perché bisogna imparare anche a correre, non solo a salire e scendere. Allora vogliamo approfittare della presenza di Simona perché sappiamo che lei è un'atleta scrupolosa, anche un'atleta possiamo dire multidisciplinare, cioè la sua preparazione è travalica dal podismo. E vorrei che ci raccontasse noi, insomma i profani, anche gli esperti, come un top run si deve preparare e come si prepara lei. Allora io sarò breve, nasco alpinista, quindi mi sono approcciata alla corsa semplicemente come... Ho iniziato a correre per aumentare la capacità pulmonare, ho sempre praticato alpinismo, arrampicata e freeride. È arrivato anche il trail, quindi la corsa in natura come naturale evoluzione di me, una donna che a 360 gradi è deciso di approcciarsi a ogni tipo di sport di montagna. Poi ho imparato anche a correre e quindi sono diventata anche un ultrarunner, come mi piace definirmi, ovvero faccio anche gare e allenamenti su percorsi veloci, piatti e non disegno neanche l'asfalto. In inverno vivendo a Courmayeur mi alleno mollando la corsa, dedicando quasi tutto il tempo nello sci alpinismo, nel freeride e un po' sino lo sci alpino, ma devo dire lo sci alpinismo in assoluto. Vabbè non ti manca quasi niente, forse paracadutismo o qualcosa, o l'apnea o qualcosa di estremo. Devo dire che sugli sport di montagna ho tutto, ho 360 gradi, ma d'altronde la scelta, io sono piemontese, abito in Valle d'Aosta, abito a Courmayeur proprio per questo motivo, per poter praticare tutti i tipi di sport. Ma sappiamo che ami anche la vela, quindi è oltre alla montagna. Sì, è vero, questo è vero. In estate siamo una famiglia di velisti e amiamo anche la vela. Quindi dalla montagna al mare. Un'ultima domanda che ci interessa particolarmente, sappiamo che tu sei una persona che nella tua preparazione sportiva, fisica, psicologica ricerchi molto i tuoi limiti per capire dove si possono superare o meno. Ecco, volevo una tua testimonianza su questa ricerca continua e cosa significa a livello mentale questo tipo di approccio. Io credo che a qualsiasi livello l'approccio in maniera professionale sia fondamentale. Anche chi non è professionista, se ha l'approccio attraverso gli allenamenti in maniera più mirata, io posso capire che non tutti possono avere il tempo per poter fare determinate cose, ma spesso io mi alleno in 40 minuti, la mia tabella del mio allenatore, 40 minuti ho finito l'allenamento. Curo molto l'alimentazione, curo le ore di sonno, curo il pre e il post gara, il pre e il post allenamento. Non dico in maniera maniacale, però credo che un approccio professionale, che tu sia top o che tu non lo sia, porti dei vantaggi, dei valori aggiunti e quindi anche delle soddisfazioni, quando, perché parliamoci chiaro, quando vai a fare una gara ti metti un pettorale. Se ti metti un pettorale perché hai voglia di far bene, altrimenti non lo metti e vai a fare il tuo allenamento da solo. Se hai voglia di metterti in pettorale e di fare bene, allora perché no? Cerca di trovare il modo migliore per arrivare al giorno zero e stare bene. Quindi i risultati non si ottengono per caso? I risultati non si ottengono mai per caso, ci sono sempre più fattori perché se tu arrivi e fai la meteora di una stagione va bene, ma per stare tanti anni sempre in gare, sempre a fare podio, sempre a vincere, comunque sempre a fare bene, non può essere soltanto una cosa, devi curare tutti i tipi di fattori. Grazie Simona. Grazie a voi. Ciao.